bene ragazzi ciao amici di fisherlandia e benvenuti a un nuovo video oggi ragazzi sono veramente felice di farvi vedere le due cose forse di chi ama il brand si spin tra le più attese del 2022 finalmente oggi vi sto parlando e vi voglio fare vedere da vicino la labrax air quindi l'attesa signori miei è finita molti di voi come me appassionati di questo tipo di canne canne monopezzo in questo caso abituati a quelle che erano le serie passate di si spin erano avevamo abituati ad avere la labrax e la labraxina mi fa piacere parlare anche di questa canna come labraxina forse l'avrei chiamata labraxina più che labrax air ma questo air la dice lunga su quella che è la tecnologia di questa canna su quello che è il peso di questa canna e soprattutto su quello che è l'utilizzo di questa canna cioè a differenza delle labraxina che erano dichiarate e diciamo sempre cane da spinning leggero ma effettivamente avevano delle particolarità per poter pescare anche in modo più pesante questa 5 ottavi di oncia che vuol dire letteralmente 10 17 grammi e mezzo scusate è veramente in questo caso reale possiamo sforare domanda sì ma di poco perché sicuramente questa canna è una canna diretta all'utilizzo delle gomme spiombate finalmente e delle gomme con poco piombo proprio per far sì che appunto la nostra esca abbia il massimo della naturalezza in acqua ma è da parte nostra che noi abbiamo il massimo del controllo su queste esche sei piedi otto è la lunghezza l'ideatore disegnatore emanuele turati che ringraziamo tutti noi amanti di questo brand ha fatto uscire ha studiato una bellissima canna insieme chiaramente a tutto lo staff e il team di si spin quindi ora bando alle ciance ragazzi miei andiamo a vedere da vicino questa labrax questa labrax devo un po abituarmi a chiamarla solo labrax questa labrax air da vicino ma rimanete con noi per qualche consiglio sull'utilizzo che vediamo in fondo con le mie considerazioni bene partiamo come di consueto dalla custodia devo dire veramente bella un neoprene bello morbido protezione del nostro oggetto abbiamo la rifinitura grigia ben cucita la scritta stampata si spin con il nostro simpatico gecko con in mano una canna da pesca abbiamo labrax air che quindi è il nome di questo oggetto e qualche dato tecnico che poi ritroveremo direttamente sulla canna quindi sei piedi e otto un'azione fast power medium poi su questo alla fine del video cercheremo di capirci un po il verso qualche consiglio su quelli che sono gli artificiali da poter usare tra sedicesimi di oncia fino a cinque ottavi di oncia come vi dicevo all'inizio e qualche consiglio anche sulla treccia da poter utilizzare nel mulinello veniamo ancora avanti troviamo chiaramente il nostro barcode troviamo sulla taschina quindi canna monopezzo si tratta quindi anche la nostra custodia monopezzo e monotasca troviamo simpaticamente sopra la chiusura la firma di emanuele turati quindi che l'ha disegnata veniamo invece a quello che più ci interessa che è la canna ve la faccio vedere un secondo così da distante guardate questa impugnatura un'impugnatura che per decisione si è decisa appunto si spin di utilizzare il vecchio e mitico sughero su questa splittatura che mi trova d'accordo anche con questa distanza di nuovo la firma di emanuele turati qua sotto non ve lo posso fare vedere perché non va a favore di camera ma il tappo qua sotto è marchiato anche lui si spin con questa bella ghiera argento satinato troviamo quindi una placca fuji originale chiaramente ci sta su questa canna un allestimento fuji poi vedremo anche un secondo l'anello con questa chiusura molto bella che diciamo che mescola insieme quello che è l'old style del sughero con il carbonio spesso e volentieri nell'impugnatura di sughero non si ci dedica molto tempo ma devo dire che raramente ho sentito un sughero così vellutato così ben lavorato tutti gli angoli sono ben smussati quindi è stato fatto un lavoro sicuramente ben fatto andiamo ancora avanti troviamo quindi questa che è la scritta si spin labrax air con tutte quelle che sono le diciture prima dette sulla custodia quindi non dobbiamo andare a ripeterla assolutamente questa inquadratura però mi permette di farvi vedere questa parte di canna che è la parte più interessante troviamo il carbonio che è un misto fra carbonio tarayaka e mitsubishi che viene e arriva fino ad avere 46 ton come densità di materiale trova tre lavorazioni diverse nel corso di 20 centimetri e poco più troviamo questo nido d'ape intrecciato troviamo questa treccia troviamo questo carbonio invece satinato questa lavorazione dovete sapere che da la canna in prima la canna un'azione particolare quindi questo significa che la canna avrà una progressione di schiena piuttosto importante fino ad arrivare alla punta che adesso non vi riesco a fare vedere ma ve la faccio vedere alla fine che avrà sicuramente una buona e ottima sensibilità proprio a giustificazione di questo tipo di oggetto un'altra cosa da sottolineare è l'anello l'anello chiaramente è un fuji originale sic ponte alto gun smoke quindi il colore scelto per questo anello una pietra che conosciamo benissimo un ponte alto che anche in questo caso mi trova molto d'accordo perché dal terzo anello in avanti in poi iniziamo a trovare degli anelli spero di poterveli fare vedere in questo caso monoponte molto molto fitti su questa canna perché fanno sì che la treccia copi esattamente quella che ha l'azione della treccia appunto sul nostro oggetto bene che adesso vi farò vedere appunto alla fine del video bene ora andiamo alle mie conclusioni e considerazioni finali prima assolutamente di dimenticarci una cosa che vi voglio fare vedere di questa canna che pesa 101 grammi non ve l'ho detto ma ve lo volevo dire perché l'espressione di questa grammatura su una canna 6 piedi e 8 è veramente imbarazzante nel senso che il bilanciamento di questa canna provata con un muninello 3000 un muninello 4000 delle serie nuove di qualsiasi edita voi vogliate che siano comunque leggeri che hanno una bella bocca di bobina hanno un anello giusto come diametro non esageriamo con la misura del muninello altrimenti rischiamo di avere un rallentamento invece che avere poi un beneficio da questa cosa è proprio questa cosa spero che si possa inquadrare si inquadra effettivamente questo oggetto quindi questa labrax air ha avuto uno studio sicuramente particolare impiegando moltissimo in questa parte di canna qua riesce a essere una canna che sicuramente sarà molto sensibile con le gomme spiombate a questo serviva questo oggetto perché non ce ne sono proprio tantissimi monopezzo come voi sapete sul mercato mantiene comunque una discreta flessibilità di fusto in questa parte centrale della canna perché comunque dobbiamo anche imprimere un po' di effetto fra virgolette fionda alla nostra esca per fare anche distanza ma nello stesso tempo i piedi 8 ci permettono di essere anche molto precisi sia sul lancio che sulla gercata fino ad arrivare poi a questa parte quella parte che vi ho fatto vedere intrecciata in tre modi diversi che invece è la parte diciamo portante di questo oggetto monopezzo quindi la parte dove abbiamo tanta schiena non è facilissimo trovare spesso e volentieri delle canne diciamo con queste azioni bivalenti qua abbiamo bisogno di un qualche cosa che sia molto sensibile utilizzando magari esche da 5, 6, 7 grammi quindi una gomma che abbia un bel peso specifico avere un controllo appunto su queste esche ma nello stesso tempo non ci dobbiamo dimenticare che non stiamo andando per pescetti perché possiamo veramente incannare il pesce importante a quel punto deve esserci una struttura della canna che ci permetta di poter combattere un pesce e eventualmente anche forzarlo anche se il tipo di pesca non sempre prevede appunto forzature questa è una canna che sicuramente andremo a provare per poterla testare su qualche pesce azzurro che è un po' più violento delle solite spigole che possiamo trovare ma sicuramente l'impiego principale di questa canna è sia per l'acqua dolce sia per il mare con l'utilizzo delle esche di gomma mi fa piacere che questa canna abbia questa schiena perché si parla di schiena solo quando si parla di recupero del pesce e di combattimento del pesce attenzione perché esistono sul mercato e ce ne sono veramente tantissimi anche delle piccole esche o medie esche in top water dei piccoli VTD dei piccoli popperini delle piccole esche che ci potrebbero anche venire comode quando siamo un po' in difficoltà e dobbiamo scegliere appunto l'esca giusta per il nostro predatore bene una canna che è solitamente sensibile non va molto bene per quelle esche qua abbiamo una bella schiena sono convinto di quello che vi dico quindi qua manovrare un bel VTD di piccole e medie dimensioni manovrare un micro jig sicuramente riusciamo a farlo senza grossi problemi quindi la canna pesa un etto un etto di canna ma è veramente bello quello che è il bilanciamento e la manovrabilità di questa canna una canna che si può utilizzare quindi in acqua dolce senza nessun problema assolutamente in bare assolutamente anche lì senza nessun problema dalla barca per chi piaccia la spigola dalla barca in giro d'Italia c'è veramente tante cose ma attenzione perché cane del genere che sono classificati come cane da spigole si possono usare su qualsiasi pesce l'importante è rispettare quella che è la grammatura diciamo di utilizzo di questa canna quindi utilizzare le esche noi lo proveremo sicuramente sul pesce azzurro su qualche bella mangianza utilizzando delle esche rispettando quello che è la grammatura di questa canna bella davvero il costo se non è intorno in 350 euro quando vedrete chiaramente questo video le troverete già disponibili qua sotto sul nostro sito sia questa vi ricordo che è la sua sorellona c'è la Labrax XX quindi vi do già l'appuntamento al video che ci sarà a brevissimo anzi finito questo cercherò di preparare subito l'altro perché vi vorrò raccontare la sua sorellona c'è una canna da oltre due once di potenza offset quindi un qualcosa di nuovo di casa si spin in questo caso e vedremo poi anche come sarà quella voto allora se io devo dare un voto a questa canna non si può dare un voto che sia sotto il 9 ma aggiungo anche un mezzo punto aggiungo anche un 9,5 per quelle che sono le rifiniture per quello che è il prezzo perché ci sta ragazzi oggi come oggi su una canna del genere con questi materiali queste rifiniture questo studio e soprattutto questo tipo di anello ci potrebbe stare quindi non è un prezzo che ormai oggi non è un prezzo spaventoso chiaramente è una buona pezza è una canna da capire cercheremo di capire più che altro come funziona appunto nel lancio e quindi il voto totale non può essere altro che 9,5 anche perché e soprattutto perché in casa si spin è veramente tanto tempo che tutti noi me compreso chiaramente in prima linea che chiediamo una canna da gomma spiombata o comunque una canna da gomma mancava veramente la Labrax fa veramente tutto bene fa un sacco di cose bene ma in quella piccola parte effettivamente mancava e quindi adesso la abbiamo chiaramente questa è mia quindi quella che vi ho fatto vedere è mia non l'ho ancora provata ma la proverò nei prossimi giorni e vi saprò dire quello che ne penso anche a livello di lancio a livello di gestione eccetera eccetera quindi ci vedremo chiaramente continuate a seguirci sui nostri social iscrivetevi al canale mettete un like al video se vi è piaciuto condividetelo e iscrivetevi al nostro canale attivando sempre le notifiche per essere avvisati ogni qualvolta uscirà un nostro video grazie ragazzi per essere stati con noi spero che questo video vi abbia fatto piacere a questo punto io e la Labrax Air anzi mi prendo lusso di dire la Labraxina vi salutiamo e come sempre vi diciamo noi che la pesca sia con voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti